Ok, salve a tutti. Allora, vi racconto un mio tesista, abbastanza interessante, non vedete chissà che roba tecnica, però è carina come tipo di idea, ed è la realizzazione di un sistema di boot via BitTorrent. Allora, l'obiettivo della tesi era quello di capire intanto bene come funzionasse BitTorrent e di applicarlo a un contesto non usuale. Cioè al contesto del boot di una rete relativamente complessa. Adesso, relativamente complessa qui per alcuni potrebbe voler dire migliaia di macchine. Nel nostro caso vuol dire 124 macchine. Il nostro contesto è un po' particolare, stiamo parlando dell'Università di Milano, del Dipartimento di Informatica. Abbiamo tre aule che dobbiamo spesso e volentieri riconfigurare, soprattutto in caso degli esami. Nel caso degli esami noi facciamo un boot particolare con una distribuzione molto limitata, molto customizzata, perché ovviamente per evitare che la gente si copi l'un l'altro i compiti o cose di questo genere. Normalmente sono macchine in dual boot, hanno Windows purtroppo di default e Linux normale. Quando facciamo gli esami deve buttare una versione molto customizzata di Linux. Il problema corrente è che nel lato sinistro, cioè la versione attuale, questa versione che vi sto raccontando non è ancora in produzione e forse non lo sarà mai, ma dopo vi dico il perché, nella versione attuale lo switch da un contesto all'altro costa, se uno lo vuole fare su tutte le 124 macchine, circa mezz'ora. Perché? Perché purtroppo il server è uno, il collo di bottiglia è una rete con 400 megabit in parallelo e quindi bene o male deve servire qualcosa come 500 mega a ogni singola macchina della rete, quindi purtroppo il server si siede e costa mezz'ora il boot di tutte le macchine. Ovviamente se uno deve programmare un esame in coda all'altro, siccome spesso e volentieri le macchine, cioè i contesti che devono essere caricati sono diversi, tra un esame, tra una sessione e l'altra bisogna farci passare almeno mezz'ora, diciamo salvo problemi. L'idea era quella appunto di ipotizzare l'utilizzo di BitTorrent per fare il boot e quindi passare da una situazione a stella a una situazione a grafo. Questa è la procedura attuale, come avviene attualmente. attualmente le singole macchine buttano in PXE, o meglio, quando non devono buttare normalmente che buttano da disco, cioè quindi durante gli esami buttano tramite PXE, caricano un initRD grosso, lo buttano in RAM e poi partono normalmente, o meglio, partono girando completamente RAM, cioè tutto il file sistema è in RAM. Queste due aree che vedete rosse sono le due aree di intervento su cui ha lavorato Davide, Davide Bruschi è il tesista, cioè sia la parte di download sia la parte di boot, diciamo così. I due problemi sono la parte di scaricamento, cioè il trasferimento del file che attualmente viene fatta con TFTP ed è appunto con grafo della rete a stella e non a grafo e la decompressione dell'initRD. La decompressione dell'initRD che non costa poco, costa qualche minuto. Davide cosa ha fatto? Primo step di intervento molto semplice è semplicemente pensare a un diverso tipo di compressione. Ho fatto un po' di prove, quindi questo non ha cambiato assolutamente niente sostanzialmente di tutta l'architettura, ha solo detto proviamo a vedere i vari algoritmi di compressione. Ce ne sono alcuni più efficienti di altri, anche particolarmente in funzione dell'hardware utilizzato che purtroppo è molto vecchio, siamo un'università senza soldi come praticamente tutte le università d'Italia, tranne quelle private forse, per cui ha semplicemente cambiato l'algoritmo di compressione e con quello ha guadagnato alcuni minuti sul tempo di boot. quindi sia, perché si è ridotto il file, no, forse l'ha ingrandito lievemente il file, ha usato alla fin della fiera gzip, sì. Ok. Quindi quello è stato il primo intervento fatto. Il secondo intervento era quello di sfruttare a questo punto BitTorrent. Allora, come immagino qualcuno di voi saprà, poi vabbè ci torno, non ce l'ho giustamente, quando uno cerca una slide non la trova mai, come qualcuno di voi saprà, BitTorrent, che cosa che fa? L'idea di BitTorrent sensata è invece che avere un server che serve i dati a tutti, ogni client che scarica qualche tipo di informazione dal server, a sua volta fa da server per qualcun altro. quindi passare dal protocollo normale a un protocollo di tipo BitTorrent permette il fatto di avere una rete in cui i singoli nodi fanno da serventi per altri nodi. E cioè inserirsi da qualche parte per cambiare e sostituire completamente o quasi il TFTP e passare a qualcosa di diverso. in realtà dico completamente o quasi perché il TFTP c'è ancora ovviamente perché? perché la soluzione prevede il fatto che a via TFTP si scarica un piccolo sistema operativo in questo caso una slita super stringata cioè strippata di qualunque cosa non servisse sono 14 MB di roba viene scaricata la slita parte la slita esattamente come sarebbe partito prima il sistema originale quindi buttando dentro RAM l'unica di fatto cosa che parte a parte una shell è un client BitTorrent il client BitTorrent parte agganciandosi al tracker che è sul server quello stesso server che prima serviva tutte le macchine adesso diventa sia servente sia tracker e quindi i singoli nodi quando hanno fatto partire slita diventano dei client BitTorrent e quindi diventano anche dei server a loro volta ovviamente alla fine di tutto cioè quando il file originale cioè quello che inizialmente si faceva via TFTP adesso si fa con BitTorrent quando viene caricato in toto si può decidere di farlo partire quindi di ottenere la situazione finale ex ante tramite per esempio key exec che quindi di fatto butta butta via e butta il server scusate il sistema operativo desiderato finale le migliaia di righe di codici che sono state scritte ci stanno in tre slide scherzo non sono migliaia ovviamente sono pochissime perché il lavoro effettivo grosso che è stato fatto è stato di decisione dell'architettura scelta dei componenti quindi scelta del client BitTorrent più opportuno scelta della distribuzione più opportuna eccetera eccetera quindi una slittance perché ha il kernel recente aria perché ha un minimo di scriptability più elevata rispetto ad altri e cose di questo genere lato server cosa c'è da fare? c'è soltanto da servire i file e far partire un tracker che è più o meno da queste parti ok lato client è abbastanza semplice perché deve semplicemente partire probabilmente non si vede comunque poi vi do l'indirizzo del wiki su cui c'è tutta la descrizione compresi gli script in forma più bella di come li ho scritti qua lato client parte il client BitTorrent che in questo caso è Aria Aria ha un certo punto ha questa cosa interessante che nel momento in cui è hookabile cioè ha degli hook a cui ci si può agganciare per fare delle azioni in funzione di modificazioni del contesto in questo caso la modificazione del contesto banale è quando ho tutti i dati quando ho tutti i dati posso decidere di far terminare direttamente Aria che è questo seed time 0 e a questo punto il client Aria termina e posso far partire il key exec che a questo punto passa il controllo al nuovo kernel quindi al sistema operativo target finale ok poi ci pensiamo un secondo su eventuali possibilità ulteriori quindi dal vecchio al nuovo quello che è successo è stato questo che il mega TFTP che c'era prima che causava il tempo di boot mostruoso nel senso mostruoso veramente cioè mezz'ora non è poco stiamo lì tutti con gli 100 studenti che aspettano di fare l'esame e non possono farlo soprattutto quando non funziona qualcosa nel senso che non funziona qualche cosa vuol dire ricominciare magari da zero e quindi aspettare un'altra mezz'ora l'altro è la compressione e decompressione del sistema e questo qualitativamente è la vista di risparmio di tempo ma questa è la situazione della nostra rete ma la la cosa interessante sono le prestazioni misurate anche qui misurate a occhio nel senso che allora aria volendo ha un'interfaccia rpc che si potrebbe indagare e interrogare per calcolare i tempi precisamente ma onestamente su questi ordini di grandezza dove si parla di minuti se uno anche a occhio guarda quando le macchine ha buttato tutte dopo vi faccio vedere il video è più che sufficiente un cronometro anche se sbaglio di qualche secondo su 5 o 10 minuti non è che mi cambia la vita e se vedete qua il miglioramento delle prestazioni è notevole ed è expected cioè allora esistono questo non è il primo lavoro che si occupa di provare il protocollo BitTorrent per fare boot ci sono almeno altri 4 lavori che citiamo sia nella tesi sia sul wiki che avevano già fatto esperimenti in tal senso erano esperimenti però molto più complessi che magari andavano a cambiare il protocollo di PXE inserendo un client BitTorrent dentro PXE che non diventa matto solo a fare questa cosa qua vedete vi ho fatto vedere qualitativamente in poche decine di righe di codice anzi in realtà in quelle decine di righe di codice c'erano anche i commenti si è potuto realizzare questa roba l'unica cosa complessa qui da fare è preparare la distribuzione di slittats super stripped down come si suol dire vedete dicevo i tempi sono molto interessanti scusate questa è la velocità di trasmissione media e questi sono i tempi questo è il tempo di boot in funzione del numero di macchine se notate allora il sistema classico ovviamente adesso qui sembra esponenziale probabilmente non è proprio esponenziale comunque perché non è detto che la scala sia corretta comunque è quanto meno lineare come minimo lineare mentre nel caso del BitTorrent che è la riga verde che vedete sotto il tempo è chiaro fra l'8 e il 41 si cambia ma dal 41 in poi vedete che tra 41 e 124 non cambia di molto anzi non cambia praticamente perché a un certo punto si ottiene una sorta di omogeneizzazione fra nodi client e server per cui di fatto il server fa una roba più o meno costante e poi se la smazzano i singoli nodi della rete questi sono i tempi di boot questo di prima erano il seed ratio scusate questo è il tempo di boot vedete che da 1380 secondi per buttare tutte le tre aule siamo passati a 315 secondi l'un per l'altro diciamo 300 e 1300 ok i lavori esistenti dicevo sono citati questo è il link della pagina dove trovate praticamente tutto lo scaricabile possibile immaginabile non c'è l'immagine di slittats ma onestamente non ho avuto il tempo di farlo ero in vacanza e onestamente non mi sono messo a fare l'immagine di slittats da caricare anche perché purtroppo nel nostro caso l'immagine è un filino customizzata perché abbiamo un hardware un po' strambo i risultati sono molto buoni perché abbiamo i tempi di avvio mostruosamente ridotti la distribuzione che fa da bootstrap sostanzialmente è una distribuzione abbastanza con un kernel recente per cui bene o male vede tutto l'hardware possibile immaginabile non ci sono da fare modifiche ai protocolli esistenti nel senso che il tftp non va modificato il pixe non va modificato si usa roba assolutamente standard tutti i tool liberi ovviamente il lavoro fatto è a sua volta distribuito con licenza libera cosa resta da fare nel caso del nostro dipartimento è un filino di parametrizzazione in più cioè in questo momento lo script è hardcoded come se fosse una roba complicata lo script sono appunto 20 righe di codice uno lo edita e cambia quello che deve cambiare per un uso diciamo così end user finale probabilmente deve fare qualcosina di più però vabbè l'utilizzo in syllabe il syllabe è il nostro laboratorio probabilmente non avverrà in produzione ci sono stati fatti dei test in questo momento perché ribadisco purtroppo e secondo me sarà abbastanza un bagno di sangue prevedono di passare a un'architettura completamente diversa basata su virtual server e quindi virtual server e remotizzazione dei desktop per intenderci e quindi sa di io cosa faranno eh quindi con think client esattamente e non so sì il fatto sì ma è per tutto l'ateneo e hanno tipo otto macchine con 256 giga di ram l'una tutto eh non lo so qualche migliaio grazie del termine tecnico era quello che pensavamo anche noi e il supporto tecnico nostro cioè del nostro dipartimento no per quello è potente perché comunque la rete no poi la rete lì sì poi la rete è veramente non lo so fra i singoli dipartimenti potrebbe non essere così potrebbe essere però lì è gare tutto gare quindi è abbastanza abbastanza cablata cioè bene non lo so non te lo so dire non te lo so proprio dire non è indifferente immagino ok 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 non allora non beh puoi nel senso che non sei obbligato a giusto ah ok perché noi in questo momento ribadisco il noi vuol dire il servizio di tecnico di Ateneo cioè siamo siamo parlando di entità diverse servizio tecnico di Ateneo servizio tecnico del nostro dipartimento io e Davide io docente lui tesista ok per sapere chi sono gli attori chi sta facendo questo progetto di migrazione è il servizio tecnico di Ateneo con cui io non ho rapporti quindi non ti so dire che decisioni stanno prendendo ok che non noi speriamo tutto tutto bene poi tieni conto che però l'hardware dell'Ateneo è abbastanza obsoleto in generale e non prevedono di cambiarlo l'hardware client intendo e per quello che domandavo è per quello che domandavo se era obbligatorio è certo beh in realtà probabilmente buttano una robina microbica no che cioè è l'analogo di un VNC per intenderci voglio dire l'analogo di un VNC cioè è sufficiente quello come tipo di no no ho citato VNC se mi chiedete che è la roba che uso io no no non perché no no è solo per dare una metafora vabbè vi saprò dire l'anno prossimo eventualmente quale sarà stato il bagno di sangue eventuale ho quasi eh annota tutto le cose divertenti secondo me che si possono fare a valle di questo esperimento tra virgolette è che allora noi l'abbiamo usato in un contesto molto particolare e d'accordo ma potrebbe essere interessante fare degli esperimenti tipo fare questo boot di Slita e lasciar partire BitTorrent e poi non fermarlo cioè non andare in KExec e buttare direttamente in un'altra macchina ma buttarla con una virtual machine per intenderci uno butta con una virtual machine e intanto lascia sotto l'host che fa da SIDER ok e questo è interessante come tipo di cosa perché a quel punto io ho una valanga di SIDER che tra l'altro con questo sistema non è neanche obbligatorio averli tutti sulla stessa sottorete possiamo averli su chissà dove uno invece che andare in PXE per caricare la Slita iniziale se la scarica con un URL ok uno la scarica con un URL o se la installa o la lancia a sua volta in una virtual machine e poi si fa tutti i giochi che vuole per intenderci potrebbe essere divertente fare esperimenti di questo genere ribadisco qui sotto avrei voluto farlo in questo ma al mare in spiaggia onestamente avevo più voglia di prendere il sole che non di mettermi a fare le immagini di Slita si possono raccogliere statistiche dicevo ARIA un'interfaccia RPC abbastanza interessante che vi dà tutte le tempistiche lo status eccetera per cui si può swippare statistiche da tutti i nodi e ovviamente l'elenco dei nodi ce l'avete nel tracker per intenderci si potrebbe usare per fare il cloning delle macchine invece che per fare il boot per esempio e chi più ne ha più ne metto cioè ci si può inventare tonnellate di roba vi faccio vedere al volo al volissimo vediamo se funziona ci sarebbe anche l'audio ma chi se ne frega l'abbiamo fatto al buio proprio perché così si vedono meglio i monitor che man mano si accendono questa è una delle aule la tau se vedete la durata del video è lievemente più grande del tempo di boot quindi e qua man mano vedete i pc che buttano nel senso che fanno prima ovviamente la parte di pixe e poi a un certo punto caricano vado avanti e non sto a farvelo vedere tutto che non frega niente c'è un certo punto mi pare che un primo piano in cui man mano se uno segue tutte le macchine ogni macchina pubblica il suo status e quello del bit torrent in cui si riesce a vedere il seed ratio eccetera eccetera perché è abbastanza interessante e l'ultima cosa poi vi lascio andare era divertentissimo è stato divertentissimo vedere la faccia dei nostri seed admin quando abbiamo fatto il boot totale perché abituati a mezz'ora e più di tempo quando abbiamo fatto partire tutti che praticamente è come se fossero girati e rigirati ed era buttato tutto sono rimasti di cacca e noi siamo con grande soddisfazione nostra e del tesista soprattutto il tesista è molto bravo naturalmente il lavoro vedete non è un lavoro complicato è stato un lavoro di scelta di determinati strumenti purtroppo è un ragazzo che usa tantissimo windows e per cui io con grande soddisfazione l'ho costretto a fare questo tipo di lavoro e non dico che l'ho convinto perché non l'ho convinto però insomma diciamo che schifa di meno linux rispetto a quanto ne schifasse precedentemente ok se ci sono domande dite grazie grazie grazie